Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. L'anticiclone compierà dei passi verso est, andando a conquistare anche l'Europa centrale e quasi tutti i settori italiani. Sull'il sud resisterà ancora dei residui fenomeni, in particolar modo durante il pomeriggio, legati alla saccatura fredda che lentamente andrà dirigendosi verso la Grecia. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per mercoledì 17 maggio. Al mattino cieli più sereni sul Foggiano, altrove nuvolosità sparsa ma senza fenomeni. Nel pomeriggio ampie schiarite con residui e nuvolosità solo sui rilievi lucani, dove saranno possibili brevi rovesci. In serata cieli stellati ovunque, velature sul Salento. Temperature, come notiamo dalla grafica, senza variazioni significative. Vento sostenuto di tramontana su buona parte della Puglia, più calmo invece sulla Basilicata e per quanto riguarda i mari, mosso l'Adriatico, poco mosso lo Ionio. Per il nostro consueto appuntamento con la foto del giorno, oggi ringraziamo il nostro telespettatore Alfonso Zuccalà, che ci mostra la fitta foschia che ha interessato il litorale di Otranto nei giorni scorsi, fenomeno insolito nonostante la bella stagione in arrivo. Se volete inviare la vostra foto del giorno, contattateci al numero Whatsapp e alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.